Germaine Hach-Rimicol, la persona che è stata colpita dallo sparo, lei lo conosce? Sì, sì Ma l'ha visto? Come ha reagito? Ma insomma, è abbastanza spaventato Insomma, sono cose che non capitano alle nostre latitudini Ma che tipo è lui? Ma è un tipo, insomma, così, è tranquillo Ma secondo lei chi è stata a sparare? Ma in realtà sì, sono quelle persone a cui normalmente non si fa troppo caso Perché magari vi si considera un po' così, pulite Cioè invece chi parla degli africani come degli spacciatori? È troppo semplice, non so Grazie Non sono di questa opinione Bene